ciao amiche di filo oggi voglio proporvi un'idea anzi due idee per utilizzare dei ritagli di stoffa preparo un cartamodello che in realtà voi potete scaricare gratuitamente che è un quadrato di lato 17 cm quindi vedete in maniera veramente semplicissima traccio due punti e poi li unisco questi punti sono 17 centimetri dal bordo della carta quindi basta poi ritagliare sulla linea ed ecco il cartamodello ma vi ripeto lo potete scaricare dalla casella delle informazioni gratuitamente 17 x 17 cm utilizzerò poi questo piatto qui questo piatto fondo che ha il diametro di 26,5 cm allora questa misura può cambiare leggermente importante che poi fate il quadrato di almeno che ha il lato di 9,5 cm in meno rispetto al diametro del piatto 9,5 10 cm in meno del diametro del piatto avrò bisogno di un tessuto abbastanza robusto di cotone questo è tipo tovagliato e sul retro del tessuto quindi il dritto lo metto sul piano sul retro vado a tracciare il contorno di questo piatto qui quindi un cerchio di 27 cm di diametro in maniera indicativa ok poi prepara un altro tessuto questo non si vedrà andrà all'interno quindi potete usare anche un tessuto che che insomma con una fantasia che non vi piace mettete dritto su dritto i due tessuti li devo unire poi cucire su tutta questa linea qui metto ancora qualche spillo prima di passare alla macchina per cucire quindi imposto un punto dritto lunghezza 2,5 mm ed inizio la cucitura sulla linea che ho tracciato quindi un esercizio facilissimo per le principianti e si procede proprio su tutta questa linea niente di più facile il circhio abbastanza grande non ci sono problemi l'unica cosa usate un punto corto qui quando arrivo verso la fine devo sovrappormi all'inizio della cucitura quindi la cucitura non ha aperture a questo punto elimino l'eccesso di tessuto con queste forbici a zig zag lasciando circa mezzo centimetro di tessuto rispetto alla cucitura stessa in alternativa fate a un centimetro circa il taglio del diciamo del tessuto in eccesso però poi è necessario se usate le forbici normali fare una serie di taglietti quindi con delle forbici un po piccoline fate una serie di taglietti a mezzo centimetro l'uno dall'altro vedete deve rimanere così questo è importantissimo per avere un cerchio ben definito sul dritto lavorato tutto il contorno procedo ad aprire questo cerchio su questo lato qui che il tessuto che resterà all'interno quello che insomma mi piace meno diciamo così al centro faccio un taglio e quindi giro tutto quanto sul dritto quindi riporto il lavoro sul dritto spingo con un oggetto non particolarmente appuntito se avete lo strumento apposito per girare gli angoli utilizzate quello ma basta anche un bastoncino così insomma per far vedere qualsiasi strumento che avete in casa vabbè e quindi appiattisco stirando per bene così avrà inoltre bisogno di questa imbottitura qui che tipo filtro per k oppure in alternativa della spugna di cotone guarda io riciclo questa spugna qui questa asciugamano che però è molto sottile ok quindi lo sistemo in doppio e devo ritagliare un quadrato un pochino più grande quindi almeno un centimetro e mezzo maggiore rispetto al cartamodello vedete questa spugna è molto più consistente quindi in questo caso posso usarne un unico strato guardate la differenza insomma regolatemi in base a quello che avete poi preparo un bel quadratino di stoffa della stessa misura della spugna quindi un po più grande del cartamodello circa un centimetro tutto attorno più grande del cartamodello lo sistemo così con il dritto verso di me e li fisso con degli spigli ora tra punterò insieme la spugna o comunque l'imbottitura con questo tessuto fisso in modo da fare un bel lavoro il tipo di trapunto sceglietelo tranquillamente io allungo il punto a 4 mm e inizio con a fare una cucitura con il punto dritto su partendo dal centro e poi da questo punto qua da questa prima cucitura farò una serie di cuciture parallele come vedete a bordo del piedino quindi mi metto a bordo del piedino sulla cucitura che già ho fatto e faccio un ulteriore cucitura parallela a questa quindi dal centro vado verso in questo caso verso la mia destra e faccio una serie di cuciture parallele fate attenzione al filo che utilizzate che ovviamente dovrà essere un filo in tinta scusate sto andando alla mia sinistra insomma faccio la cucitura fino alla fine del tessuto poi giro riparto dal centro vedete ho fatto questo lato poi si riparte dal centro e si va verso quest'altro lato qua effettivamente è un modo per trapuntare i tessuti estremamente facili ma potete usare il metodo che preferite quindi faccio un lato e poi l'altro voglio farvi vedere se invece di un unico pezzo di tessuto avete delle striscioline questa è di 3 questa di 4 cm questa di 6 la lunghezza di circa 25 centimetri per ciascuna strisciolina allora posso utilizzare questo utilizzo questa spugna un pochino più spessa ho sempre ritagliato allo stesso modo come prima vedete la spugna un pochino più grande del cartamodello procedo ad applicarli al di sopra quindi che ne so parto con questo qui che metto al centro partite sempre dalla zona centrale sistemate lo così in modo tale così da farlo rimanere rispetto all'angoletto proprio al centro della fascia la fisso e applico poi quest'altra quest'altro tessuto metto dritto sul dritto e effetto una cucitura con il punto dritto in questo caso la lunghezza del punto fissatela 3 mm è semplicemente fate la cucitura adesso sposto per bene il tessuto lo blocco con lo spillo e metto l'altra fascia di tessuto sempre dritto sul dritto e faccio di nuovo lo stesso tipo di cucitura a bordo piedino una cucitura insomma adatta veramente a tutte le principianti giro di nuovo il tessuto blocco e metto l'ultimo pezzo di tessuto insomma l'ultima strisciolina dovrò coprire tutta la spugna fino all'angoletto quindi cucitura poi fate attenzione questa parte qui mettete la per bene sul diritto adesso sul rovescio lo fisso per bene ecco quest'ultimo tratto potete al limite fare anche un ulteriore cucitura su questo lato qui e su quest'altro poi riparto sempre dal centro quindi da vado sull'altro lato e ripeto la stessa operazione quindi questa fascia e poi procedo sempre con lo stesso metodo applicando gli altri pezzi ecco qua coperta tutta quanta la spugna tutte le striscioline messe insomma in base a quello che il mio gusto in base a quello che ho ora il cartamodello sul retro dove io posso vedere per bene le cuciture faccio attenzione allineo a questa cucitura qui in particolare vedete questi 22 cuciture questo lo sistema proprio al centro e blocco con uno spillo su quest'altro lato ecco faccia attenzione a queste due cuciture che sono abbastanza evidenti metto centrato per bene l'angolino e quindi devo ritagliare questo eccesso utilizzo una squadra potete anche marcare con la penna e poi tagliare con le forbici se non avete il cutter e tappetino però potete ecco ritagliare con cutter e tappetino allineandovi allineandovi al cartamodello quindi adesso diventa utile utilizzare questo cartamodello questo spillo ovviamente lo sposto e continuo così eliminando gli altri eccessi di di tessuto su questi altri due lati 12 ecco qua quindi il quadratino è pronto perfetto un quadrato di lato 17 centimetri almeno nel mio caso ma lo potete cambiare leggermente come già vi ho fatto vedere questo allo stesso modo sovrappongo il cartamodello in questo caso lo faccio sul dritto quindi ritagliato anche questo dal dritto però mi raccomando avete questa parte centrale della presina che andiamo a realizzare va bene vediamo adesso il cerchio che ho stirato per bene in realtà ho marcato anche questi due diametri ve li faccio vedere anche con lo spillo prego perfettamente a metà metto uno spillo sia su questo punto che su questo punto opposto ricerco voi il diametro ortogonale a questo quindi ripiego così con lo spillo e individuo proprio quest'altri due punti e come prima metto anche qui lo spillo ovviamente potete marcare con il ferro da stir oppure con gli spilli insomma fate come volete questa parte comunque deve essere stirata per bene ora sovrappongo la parte trapuntata all'interno comunque imbottita il riferimento sono proprio questi spilli o comunque la piega gli angoletti devono corrispondere con gli spilli e devono essere equidistanti dagli spilli quindi sistematelo per bene in questo modo qua poi sposto lo spillo verso il centro vedete questa è la parte questa è la parte aperta vado a sistemare la parte imbottita sopra quindi non si vedrà blocco in questa posizione ora devo ripiegare questa parte tonda su questo lato fate attenzione e sul lato opposto così controllo di aver ripiegato allo stesso modo nel mio caso 4 centimetri e 4 devono essere anche su questo lato qua e poi ripiego invece questa parte sistema per bene ecco fondamentale piegare per bene così gli angoletti sovrapponendo in questo modo questo poi si farà le mac alla macchina per cucire però questa parte deve essere proprio sovrapposta così ovviamente anche in questo caso ripiegato per 4 centimetri in modo tale da avere un qualcosa che perfettamente simmetrico e quindi l'ultimo lato allo stesso modo si ripiega in questo modo qua sempre 4 centimetri per poter appendere devo utilizzare un nastro nel mio caso è di circa 16 centimetri di lunghezza è un nastro di cotone lo dovrò sistemare proprio qui al al centro di quest'angolo nella parte interna in questo modo e poi lo richiudo come ho stabilito quindi apro questo angoletto come prima cosa e lo vado a sistemare quindi in doppio ho messo il nastro faccio una cucitura con il punto dritto bloccata per bene così poi vi faccio vedere anche un altro metodo per mettere questo gancetto in modo tale da poterlo mettere anche sul lato non solo nell'angoletto parto quindi da questa posizione imposto un punto a zig zag abbastanza ampio qui vedete c'è questa piccola apertura un piccolo difetto con la cucitura zig zag lo vado a coprire e quindi diciamo il difetto non si vedrà sostanzialmente questo è il vantaggio di fare una cucitura ampia quindi in questo caso specifico a zig zag e anche abbastanza il punto abbastanza corto poi selezionato dalla vostra macchina quindi faccio tutto questo lato fino all'angoletto sono partita proprio dal lato dove ho messo anche il gancetto quindi chiudo così il procedimento adesso richiede di andare su nella direzione opposta quindi fatto questo passo sul lato opposto sistemo così parto dall'angoletto e faccio lo stesso tipo di cucitura identica a quella che ho appena fatto quindi faccio tutto quest'arco sul bordo proprio del tessuto guardate io sto utilizzando un filo di colore verde il colore decidetelo voi ma sarà poi in evidenza ora passo su questi altri lati vi ricordo che quelli che richiudo per secondi devono in parte sovrapporsi specialmente nell'angolo con la parte che già ho chiuso quindi blocco il punto e procedo allo stesso modo come ho già fatto quindi vado così e faccio tutta quanta la cucitura per le amiche principianti che diciamo caso mai non sono troppo precise possono farlo con un filo in tinta in modo tale da non creare il contrasto e non si vede sostanzialmente niente quindi fatta questo lato qua procedo su quest'altro allo stesso modo sovrapposizione e cucitura sempre con le stesse modalità bene come vedete è veramente facile una volta impostato diciamo il lavoro si procede senza nessuna difficoltà alla fine della cucitura blocco il punto quindi questo è sul retro vedete si vede è molto carina anche sul retro da questo effetto di trapunto e sul davanti eccola qua guardate che meraviglia carino questo effetto dello zig zag il gancetto vedete resta all'interno basta togliere solo qualche piccolo filo guardate che carino questo effetto il gancetto rimane così ora invece vi faccio vedere come sistemare quest'altro questa altra parte qui sempre come abbiamo fatto prima centrandola per bene piegando due lati opposti e poi gli altri due con la stessa sequenza vado a fare la cucitura questa volta però farà una cucitura diversa il gancetto lo applicherò all'esterno quindi questo cancio e di 15 centimetri nel mio caso lo applicherò dopo quindi qui faccio una cucitura con il punto dritto sui due lati opposti quindi richiudo poi questo lato qui con le stesse modalità di prima molto più veloce perché sto utilizzando un punto dritto lunghezza 3,5 mm quindi richiusa tutta quanta la presina il gancetto lo posso posizionare nell'angolo come ho fatto prima oppure a metà di uno dei lati quindi se decido di metterlo qui sull'angolo vado sul retro lo metto in doppio così e faccio vedete in questo modo e faccio una prima cucitura sempre con il punto dritto e quindi in questo caso non ho ribattuto con il punto a zig zag ma con il punto dritto che è più veloce e poi giro così e ribatto anche il gancetto come vi ripeto in questo modo la possibilità di mettere il gancetto anche su uno dei lati del quadrato bene ribatto il punto ed ecco il gancetto fermo questa quindi è la seconda versione gancetto messo in questo modo che vi dà la possibilità di mettere il gancetto su uno dei lati del quadrato lo ripeto quindi potete personalizzare questa presina come più vi piace fare un punto dritto un punto decorativo a zig zag mettere dei ritagli all'interno un unico tessuto come già vi ho fatto vedere insomma vi potete sbizzarrire e personalizzare questo progetto io spero che i consigli che vi ho dato vi siano utili vi mando come sempre un grandissimo abbraccio e vi aspetto nei prossimi tutorial iscrivetevi al canale perché è completamente gratuito e poi lasciatemi un like ed un commento ciao amiche a presto ciao 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 ciao